Massimiliano Ortali di SAP Italia, perché la partecipazione a Technology Beats di Napoli del progetto SAP Mezzogiorno Mondo? Come SAP abbiamo deciso di far confluire il progetto Mezzogiorno Mondo al Technology Beats perché riteniamo importante supportare queste attività legate all'innovazione e legate a cercare di dare elementi competitivi alle aziende del sud. SAP Mezzogiorno Mondo è un'iniziativa nata nel 2007 che ha l'obiettivo di mettere a confronto le principali aziende del sud su tematiche di innovazione e creatività. In particolare quest'anno abbiamo deciso di sviluppare il tema della creatività e questo è stato fatto nel corso del 2009 con una serie di eventi sviluppati sul territorio e soprattutto grazie al canale di social network che abbiamo, che è Wikisap, che è un canale specifico per il Mezzogiorno e che vede più di 500 imprenditori che quotidianamente operano sul nostro social network. In questa ottica abbiamo pensato che Technology Beats fosse il compimento di questo progetto nell'arco del 2009 e infatti domani avremo l'evento conclusivo di SAP Mezzogiorno Mondo con una tavola rotonda che vedrà una serie di imprenditori del sud e alcuni imprenditori del nord, infatti il tema è sud chiama nord e parleremo di come la creatività e l'innovazione possono permettere anche in questo momento di crisi di competere e di innovare.